Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti nuovamente su The Division in questa analisi veloce veloce della patch notes del Day 1 in cui andremo appunto a vedere quali modifiche verranno portate al titolo direttamente all'uscita ossia quando sarà possibile giocarlo, senza perderci in chiacchiere quindi. Le prime modifiche riguardano il menu, infatti gli oggetti adesso sono visualizzabili in griglie e questa modifica è stata portata per un fattore comodità. Implementata la funzione divise, questo per indossare tutti gli elementi di una divisa per esempio voi create la divisa da ride, esempio, ci mettete braccio destro color rosso, gamba sinistra color blu cliccando sulla divisa da ride automaticamente vi equipaggerete il braccio rosso e la gamba blu in pratica si creano dei preset di equipaggiamento infine è stata aggiunta la funzione ispeziona per controllare l'equipaggiamento degli altri agenti spostandoci al secondo punto di questa patch notes ci sono stati diversi miglioramenti visivi li vedrete a schermo, li vedrete nel link che ho messo in descrizione e riguardano le varie gestioni dell'illuminazione, della luce, la profondità le varie combinazioni tra meteo e ore del giorno e cose di questo genere arriviamo poi al terzo punto aggiornamenti alla mappa e al mondo aperto aggiunta la panoramica missione nella mega mappa sulla mega mappa è indicato anche il livello di filtro richiesto delle aree contaminate i dati operativi audio sono riprodotti automaticamente al momento della raccolta se si inizia ad ascoltare dati operativi audio del menu si può proseguire anche al di fuori di quest'ultimo in pratica voi li attivate e poi andate tranquillamente a giocare mentre li state ascoltando aggiunti i sottotitoli a tutti i dati operativi audio migliorata l'usabilità del menu di ingresso nella missione in pratica quello che vi fa scegliere se avviare il matchmaking scegliere le difficoltà e cose di questo genere aumentata significativamente la quantità di materiali fai da te ottenuti nelle casse del bottino e questo punto mi piace davvero molto perché nella beta ho notato che magari trovavi un componente qui un componente là e non sapendo quante ne richiedesse il crafting mi sembravano davvero pochi effettivamente era così a quanto pare infine l'icona per riferimenti nella dark zone è stata cambiata e ora indica la presenza di nemici controllati dall'IA spostandoci al quarto punto e penultima sezione nel menu impostazioni è ora disponibile l'opzione aiuto che contiene tutti i consigli contestuali e delle schermate di caricamenti in pratica tutto quello che può essere un tutorial lo trovate anche in un menu che appunto si chiama aiuto aggiunti nuovi tutorial per alcune caratteristiche meccaniche di gioco è comunque possibile disattivarli nel menu opzioni aggiunte informazioni nell'interfaccia del bottino per spiegare perché un oggetto non può essere raccolto la torretta da ora in poi attacca solo i traditori nella dark zone e non danneggia i giocatori neutrali sulle linee di fuoco ah finalmente questo cambiamento nella dark zone sono diventato più volte rogue soltanto perché altri agenti neutrali mi passavano davanti o meglio passavano davanti alla mia torretta ed era davvero fastidiosissima come cosa infine i modificatori delle abilità sono stati aggiunti direttamente all'equipaggiamento altro cambiamento molto interessante infine la quinta ed ultima sezione riguarda la correzione di alcuni bug, glitch e dei miglioramenti vari esattamente come per quelli visivi potrete leggerli a schermo potrete trovarli nel link che trovate in descrizione e riassumendo molto in generale sono stati corretti tutti quei glitch che rendevano un giocatore immortale aggiunti una serie di controlli che impediscono ai client quindi ai vari giocatori ad esempio di hackerare tra virgolette di utilizzare ad esempio lag switching e cose di questo genere in pratica un controllo su chi fa il furbone ed infine migliorate in generale la stabilità del gioco dal punto di vista ovviamente della connessione quindi ragazzi questa è la patch notes che entrerà in vigore all'uscita del titolo c'è da dire che ubisoft si sta sforzando davvero molto e di questo ne sono molto felice vi basti vedere dalla prima beta, dalla closet beta di gennaio ad oggi quanti cambiamenti sono già stati apportati al gioco puramente perché la community li ha richiesti oppuramente grazie al feedback della community stessa quindi brava ubisoft continua così con questo video è tutto io vi ringrazio per la vostra attenzione spero che questo video sia stato di vostro gradimento e vostra utilità pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto condividetelo con tutti i vostri amici che giocheranno The Division e noi ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao